Di storie d'amore nella casa del grande fratello ne sono nate tante nel corso degli anni. Ma poche coppie hanno appassionato i telespettatori come quella formata da Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi. I due si sono conosciuti a novembre 2020, quando Giulia ha fatto il suo ingresso nella casa, dove Pierpaolo si trovava già da settembre. Un rapporto cresciuto ogni giorno di più e da un'amicizia iniziale è nato un grandissimo amore, che continua anche a reality concluso. Nonostante lo scetticismo di una parte del pubblico, Giulia e Pierpaolo si mostrano più uniti e complici che mai. Tra loro è vero amore e, se qualcuno avesse ancora qualche dubbio, non ha visto l'ultima stories condiviso da Pierpaolo sul suo profilo Instagram. Oggi, 9 maggio, Pierpaolo e Giulia stanno facendo un weekend romantico a Roma. Lui gli ha fatto trovare a Giulia un letto con la scritta Ti amo e una jacuzzi all'aperto.